La maggior parte dei tuoi colleghi intervistati hanno subito detto io ho firmato per il Gela perché si punta ad un campionato di vertice e al Gela non si può dire di no, è l'identica tua idea? Sì, ovviamente come ben sappiamo tutti il Gela è una squadra storica ha militato anche in campionato di Serie B perciò io ho scelto subito Gela perché anche io esco da un campionato giovanile quindi devo fare esperienze e devo crescere e quindi ho detto subito sì Conoscevi qualcuno dei ragazzi, conoscevi il tecnico oppure per te una nuova famiglia? No, no, una nuova famiglia però ho conosciuto subito Giovanni Martello e mi sono trovato subito bene con lui Ma il tecnico Boccoleri vi fa studare? Eh sì, parecchio Non avete un attimo di respiro? Sì, sì, però spero saranno ricompensati questi lavori che facciamo, questi sacrifici penso che in campionato saremo un passo davanti agli altri Anche perché il Gela, come dicevamo, merita altri palcoscenici la Serie D è soltanto il punto di partenza Sì, sì ma spero che quest'anno faremo un bel campionato e dimostreremo quello che siamo perché il Gela merita, come ha detto lei, altri palcoscenici È chiaro che i nuovi si sono rivolti a te per parlare del Gela tu, gelese Doc, che hai già vissuto la casacca bianca azzurra cosa hai detto ai nuovi arrivati del Gela Calcio? Che qui è una bellissima piazza che normale già sanno qualche squadra del Gela sanno che ha fatto la Serie C comunque gli ho parlato bene anche per la società e tutto già si sta formando una nuova, una vera famiglia anche sono under quindi prendono il punto alle persone più grandi come tipo Bonafini, Nassi, che parlano bene Voi è chiaro che vorreste ripetere il campionato dell'anno scorso non è facile perché il campionato di Serie D non è l'eccellenza però è chiaro che quando si parte col piede giusto poi alla fine i risultati arrivano Sì, si spera di ricordare le emozioni dell'anno scorso e regalare una gioia alla città Sì E a quei tifosi che vi hanno sempre seguito Vero, vero